Buongiorno a tutti. Oggi preparo una torta con amaregna. Inizio dal pan di spagna. Mi occorre 150 g di farina, 4 uova e 150 g di zucchero. Inizio a montare le uova con lo zucchero. Un piang bambino. Hociamato il torta con un po' di calda. Un piang bambino. Un piang bambino. Un piang bambino. Dopo aver montato l'uovo con lo zucchero, incorta la farina che precedentemente ho setacciato. Non metti il lievito perché ho messo 75 grammi di frumina e 75 grammi di farina. Dopo aver incorporato la farina la vado a mettere in una teglia di 25 cm di diametro. Ora la vado ad infornare con un caldo caldo a 160 fino a cottura. Per il ripieno ci vuole 500 grammi di panna, per la crema 3 uova, 3 cucchiai di zucchero, 3 cucchiai di farina, mezzo litro di latte e un po' di vaniglia. 100 grammi di amareno. Ora preparo la crema. Metto le uova, 3 cucchiai di zucchero e 3 cucchiai di farina. 30 grammi di tagliare, Per isto, metto la vaniglia la vado ad addensare sul fuoco ora che la crema si è addensata la metto a raffreddare ora la vado a mettere nel frigo a raffreddare dopo 20 minuti è pronto ora la vado a decorare ho fatto una bagna con acqua e zucchero la vado ad avvenire ora metto l'amarin ora metto la panna nella crema dopo aver incorporato la panna ora metto l'amarin 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 ora metto l'amarin